Proiezioni luminose, mostre e concerti ispirati al tema degli angeli, anche Via Duomo si prepara al Natale con un calendario di eventi fortemente evoluto dai commercianti della zona e realizzato con la collaborazione del Comune e della Curia. Sono previsti itinerari artistico-culturali, eventi folcloristici ed enogastronomici anche nei vicini dei cumani, ma protagonisti sono i musei e i complessi monumentali del luogo che accoglieranno esibizioni musicali e canore, visite guidate e spettacoli teatrali. Abbiamo avuto già una bella e significativa esperienza quest'anno quando abbiamo rilanciato la festa di San Gennaro, quindi questa collaborazione, questa sinergia continua. Vorrei sottolineare che tutti i musei di Via Duomo ospitano in questi giorni delle mostre molto belle e importanti, quindi innanzitutto io vorrei fare appello a questo, accogliere l'occasione di questa animazione che si fa della strada, soprattutto per prevedere le visite ai musei. E poi il Comune cercherà di prolungare questo sforzo anche per tutto il mese di gennaio con visite teatralizzate, spettacolarizzate e anche con incontri, appuntamenti culturali e musicali. L'atmosfera natalizia è resa ancora più suggestiva da fasci di luce che tutte le sere fino al 6 gennaio proiettano angeli luminosi sulla facciata del Duomo.